Ed ecco il nostro tiller a sette masse in azione su Goldoni 90 Quasa, come vedete va bene, vai! Come potete vedere l'attrezzo è molto ma molto robusto, sopporta una macchina potente anche 100 cavalli. Vedete come rende soffici il terreno, estirpa le infestanti e lascia il terreno, rompe le zolle e lascia il terreno morbido. Ecco qua, bene! Bene Pierpaolo, se vuoi salutare abbiamo finito. Grazie per la visione!